Ciao a tutti ragazzi, come è Gozzo? Benvenuti in questo nuovo video, vi vorrei dare un benvenuto più caloroso ma il mio stato di salute non me lo permette Ma permette invece di incazzarmi a BES e di spaccare adesso sani mazzi su Fortnite Già, perché oggi siamo tornati, pensavo che fossi scomparso, non si è andato via, c'eravate quasi arrivati perché sono malato Mio nonno mi ha anche prestato il fazzoletto che non devo sempre prendere fazzoletti, vabbè lasciamo stare Siamo carichi quest'oggi, sono carico perché sapete che c'è la nuova season da una settimanetta e sapete di portarvi il nuovo record che appunto avevamo detto un po' di tempo fa nella nuova season Quindi, vediamo come si presenta questa nuova season a noi, nel senso sapete già le novità, sappiamo tutto Come si presenta nel senso come riusciamo a interfacciarci e che partite riusciamo a fare Quindi, partiamo subito su Fortnite, mi raccomando, messi un mi piace, iscriviti al canale per vederne delle belle Perché ce ne saranno tante E vi ricordo che qui in descrizione trovate il mio Instagram per seguirmi sempre nelle ultime novità e negli outfit bomba che metto in tutte le storie Quindi, mi raccomando Già ragazzi, non sto mai bene porca miseria, eppure sono qui a portarvi i video e registrarvelo Siamo nella nuova season appunto come avevo già detto E ora vediamo di cacciare qualche bella bomba, che dite? Ragazzi, come da manuale io credo proprio che sia il caso di scendere onde Forse pinnacoli è meglio Scenderei a Laguna Languita, ma non c'è gente Sì, dai, scendiamo a pinnacoli, dai Allora, come da manuale, scendiamo a pinnacoli, spacchiamo tutto E vediamo un po' cosa riusciamo a fare Ma sono indeciso ragazzi, se andare... Ora, vediamo dove va la gente Intanto andiamo verso pinnacoli, poi ci mettiamo poco a deviare Mi raccomando ragazzi, se volete potete aggiungermi tutti quanti X, Y, Z, trattino in basso Omega su Epic Games Stare con me, giocare con me, entrare nel clan Fare tutto quello che volete, perché ci sono Detto questo, concentriamoci Scaliamo questo nuovo record nella nuova season E vediamo un po' cosa riusciamo a fare Atterraggio completamente di merda Ok, andiamo Tra l'altro ragazzi, questo gameplay, come ben vedete È fatta con la bellissima School Trooper Purple Cioè con, vabbè, la School Trooper è viola Ma come sono in inglese? Bene, iniziamo bene questa partita Senza un'arma Grande, grandioso Allora Se non c'è un'arma qua Io non so dove andare a vedere Munizioni Il pompa tattico Inizia bene questa partita ragazzi Non abbiamo armi La gente sta già crepando Come dobbiamo scalare il record con le mutande? Allora, intanto luttiamo Cerchiamo di luttarci qualcosa Scudini Qui Ci facciamo questi Tanto già spararsi Vabbè, questa la prendiamo La usiamo come assalto Direi che Come armi Per un inizio probabile ci sta Andiamo a pushare Sperando di trovare qualcosa Altra cosa Vediamo un po' Vedete che sta qui dentro Allora facciamo una cosa Via questo Ma vedete che sta qua Ecco sta qua Perché sono cane Ma guarda adesso che fine che fa questo Boom Boom Allè È il primo è andato Il schere Ok Che bello casarsi per una kill ragazzi Vedete fortemente è bello perché Bisogna casarsi per una kill soltanto E una soltanto A testa ovviamente Cioè in tutta pinnacoli c'era solo quel disgraziato Non c'è nessun altro È possibile? Lo scudo Non mi sento Ehi 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 Ok Calmi eh Calmi Siamo calmi Signori che qui tutti hanno i propri problemi Tutti sono nervosi Tutti non hanno mangiato a pranzo E tutti sono malattico a me Ok Quindi detto questo Eh sì vabbè dai È imputtanati Detto questo Vediamo un po' chi c'è Eh Chi è? Ma sta sotto Oh sta sotto Sta sotto Sta sotto Devo levarmi sto tattico Che mi fa venire il cancro Ma come? Ma stanno sotto Da dove sono appena uscito Dai Vai 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 Eccolo eccolo Boom 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 Sì 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 Ok Ora ci Riorganizziamo un attimo l'inventario Vediamo un po' che bella partita Che potrebbe uscire Sono ancora 48 ragazzi Non darei tutto per scontato Vediamo se ce la facciamo A fare un bel partitone Devo desistere Mi sta venendo da star routine Ma c'è gente Aspettate No ragazzi vi giuro Se non mi venisse da star routine L'avrei pieno con il cecchino Ve lo giuro Non ho manco pensato a metterlo Non è possibile Ma ditemi se è un pro player come me Deve giocare in queste condizioni Vabbè Spamiamo tanto ormai Spammano tutti Allora Vediamo dov'è questo delinquente Guardate Adesso muoio Già lo so What? Sparito Ma che che? Sarà salito qui? Ah no ce l'ho detto Ok Non sto capendo Si sentono rumori da tutte le parti Qui ci dovrebbe essere un altro Buu Eh come non è morto Buu Tranquillo Non scappi Tranquillo Non scappi Ma che stupido Che stupido Ma è scemo No Ma è stupido come una scimmia questo Cioè manco mi ha visto Vabbè Ragazzi siamo quota 3 kg Finna quella è nostra Però io ho sentito un altro Non so se c'è ancora O è andato via Eccolo eccolo infatti Boom Ciao amico E l'altro è andato Va bene Bella così per noi La safe sta arrivando Pinnacoli L'abbiamo conquistata Anche a sto giro Porca miseria In tutto questo Mentre Ho gli occhi che mi bruci In una maniera impressionante Devo star nutire Mi sto Trattenendo Sto stringendo i denti Cioè ragazzi Sto c'entrando una partita Porca miseria Che manco ninja sotto i ferri Vi gioca Porca miseria Dai Piazzate un bel like Se ancora non l'avete messo Intanto andiamo via di qui Che poi con Il fatto che Adesso Sono cambiate un po' le case Un po' tutto Ci sono anche missioni Del cavolo Tipo questa Mi sa che ora mi dà la missione Perché qua non ero mai venuto Infatti Ok Ok Tecnicamente qui abbiamo visto qualcuno Ma sta là Ma è stupido Che fa È stupido come una capra questo Vamos 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 Pusciamo Aia Ora che poi mi fai danni Ti chiedo danni Sì sì dai provaci Tanto sei scarso Bam Ok Anche questo è andato Attenzione C'è anche droppato uno scarre Molto succulento Succulentissimo Allora La situazione è la seguente 5 kg 19 persone Eh vabbè Niente Intanto qui c'era un altro dietro Ma Oh eccolo Eccolo Questo è un altro ancora E vai E vai Tober PJ 11 È andato a casa Anche lui signore Ha deciso di abbandonare il match Ma ne sta un altro Eh sì Ne sta un altro Oh ok Che mi lascio lo scarro Prendi subito il P90 E andiamo a pushare anche quest'altro cucciolo di elefante Ragazzi Stranamente in sto match Non mi sta laggando proprio Solitamente qualche laggata La fa Olè Grande Omega Stranamente qualche laggata la fa Ma in gioco sto match Mi sta dando proprio un lusso Cioè siamo a 7 kill 13 rimasti Capace che ci arriviamo a vendere Gli devo spaccare la macchina Spacchiamogli la macchina Avanti Allora La safe sta arrivando E Ho 7 kill Non voglio rischiare di arrivare in safe Morente per colpa di un cretino Vabbè Bisogna spammare Abbiamo capito Se no Non arriviamo da nessuna parte Allora ragazzi Onde evitare di Finire questa partita Con qualche bestemmia Con qualche bestemmia Io me ne vado In safe Però Dai Eh È dentro la tempesta Eh sì Ora me ne vado Ok Il tizio sta lì Che preda succulenta Che vedo Ma che Come cavolo spari Vabbè dai La mira oggi Non ne vuole sapere E non ne vuole sapere Mortiso Mortiso Va a casa Anche lui E ci lascia Con 8 kill Bene ragazzi Possiamo arrivare Un probabile 18 Non credo Se li ammazziamo tutti Non ce la faccio proprio Se magari Si fanno trovare questi C'era uno dietro di noi Ma non ho capito Che fine ha fatto Saranno O sarà morto O è giampato Dal gas naturale Lì Non lo so Però vabbè Andiamo a push Sono già in 9 Dai Vabbè Oggi il cecchino Proprio ha detto Io faccio forfè Non ne voglio sapere E fai forfè Sento spari Sento spari Arrivo ragazzi Non iniziate il party Senso me conso Porca miseria Arrivo Arrivo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 No 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 Sta qui Appena ha droppato un'arma Boom No 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 Wow 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 Calmo Calmo Molto calmo No ok Grande Uh Signori 9 kill Attenzione Oh Oh Che si vuole Ragazzi Non è No 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 Ragazzi mi sei puttanato Che sta succedendo Sto cambiando arma No ragazzi Bestemmio Vi giuro bestemmio Si è crashato il gioco Vi giuro che è bestemmio Ragazzi Non mi cambia niente Oddio che ca What the fuck Vi giuro meno male che si è ripreso Stavo per bestemmiare Madonna Stavo per bestemmiare Vai fate gli scudini Presto mia che arriva qualcuno Ma che ca Ma quanti scudini Ah Oddio va Si sta battendo No ragazzi Oddio Non si muove Non si muove Non mi fa niente Non si muove No Cinese di merda Questo è un cinese di merda Se ci sono dei cinesi Tra gli spettatori Mi voglio scusare Non sono un razzista Non ce l'avevo col cinese Ma non può arrivare Lui con 4 kg E ammazzarmi A me che ne avevo 9 Ecco Ecco come vanno a finire Le belle partite Ecco perché non riesco A superare il record Ecco perché mi incazzo Sempre bestemmo Sempre No ragazzi Vi giuro veramente Mi sta prendendo il nervoso Mi sta Mi sta veramente Prendendo il nervoso A fior di pelle Veramente Non sto scherzando Sto cinese infame Che non sono razzista Ve lo ripeto Ma porca miseria Come si fa in nervosirsi Come si fa Mi tornate indietro Quando ho cacciato il no Grosso Che quando sono morto E fatevi una risata Vabbè A male in cuore Ragazzi Anche questo gameplay È finito In maniera tragica Mancavano 4 persone Sarei potuto arrivare A 13 kill Fare una bella partita Comunque Se il video vi è piaciuto La scelerata vi è piaciuta Mi da mettere un bellissimo mi piace Iscrivetevi ovviamente Al mio canale Perché arriveranno Tanti altri video Di Fortnite GTA Mi raccomando E a seguirmi Su Instagram Che trovate qui E in descrizione Tanto ci mettete ragazzi Due secondi Così Vi posso salutare I prossimi video E potete restare Sempre a contatto Com Per questo video è tutto Io vi saluto Detto questo Ci vediamo tutti quanti Al prossimo video Sperando che il prossimo video Sia Un video decente E non che crashiamo così Ciao Sono disperato